Questo campionato sta dimostrando che quello che io sostengo da sempre è che tutti possono vincere con tutti e tutti possono perdere con tutti, non è così banale perché non sempre succede così, però questo campionato è particolarmente equilibrato, lo dicono i risultati, lo dice la classifica così compatta ed è chiaro che in questo momento noi dopo 5 vittorie consecutive in una classifica così corta e compatta abbiamo fatto un salto in avanti altissimo, se c'è una partita penso che sia difficile e che temo particolarmente è quella di domenica per vari motivi, il primo motivo è perché Pistoia è forte e gioca molto bene e hanno questa forza di non arrendersi mai durante la gara, hanno trovato un equilibrio perfetto, secondo me due giocatori, il playmaker della guardia che forse sono tra i migliori del campionato perché Moore si sta dimostrando dopo Caserta di essere un vero reale playmaker che fa giocare la squadra, che trova punti, che trova penetrazione e Knoles mi sembra la rivelazione un po' di questo nostro campionato nel ruolo di guardia, Kierke sta facendo benissimo ma soprattutto è un lungo che ti fa fare delle scelte, delle scelte particolari, tecniche tattiche perché è bravissimo spalle a canestro ma ha questa capacità di tirare da 3 punti quindi di aprirsi se tu fai contenimento con lungo sui piccherolo, sui riccioli, sulle penetrazioni, da aprire il campo e tira con il 50% da 3, Cis da energia, Americano nel 3 con Lombardi da dietro danno forza, la squadra è veramente molto completa e poi bisogna dare merito sia come è stato con il sinistro della squadra, bisogna dare anche merito a esposito perché sta osando tantissimo.